guerra a Zambon vado in sintesi caro Francesco mi spiace informarti che ancora una volta riconfermo il mio disappunto verso il vostro report che avete fatto e tante altre cose ma veniamo al passaggio importante sul fronte italiano ci sono già i primi segni di tumulto istituzionale e di risentimento verso l'OMS per la mancanza di ogni consultazione preventiva ecco perché c'entra speranza, perché il tumulto istituzionale vorrei capire Zambon qual è attenti il risentimento per questo più che per il fatto in sé di quello che c'è nel documento e che sarà, in più dice revisionato dal Ministero della Sanità Ministero della Sanità Luca Ministero della Sanità Zambon questo lo sa si parla dell'Istituto Superiore di Sanità che è un agosto del Ministero ma non è la parte politica esecutiva del Ministero io prendo atto che se scrivo Ministero della Sanità in italiano sono guerra non sono un passacarte non dico che l'Istituto Superiore di Sanità Zambon prego poi Francesco Borgonovo veloci ragazzi vai si faceva riferimento in quella mail al fatto di istituire addirittura una commissione per revisionare il rapporto da tre enti OMS Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità ma questo è un rapporto dell'OMS per quale motivo deve essere scritto a quattro mani con il paese che si sta cercando di andare a descrivere tra l'altro non era senza nessun giudizio era proprio un rapporto narrativo che non è una valutazione della risposta non la potevamo fare eravamo ancora nel pieno della risposta e quindi certamente questo va detto il Ministro doveva essere informato dell'uscita di questo rapporto senza forse vederne la versione finale ma doveva essere informato per il motivo per cui a conferma guerra doveva farlo un mese prima a conferma vado prego Sandra prego posso fare una domanda